La sigaretta elettronica è utile per chi vuole smettere di fumare? Diciamo che si sono in corso ancora degli studi che lo stanno valutando. Ad oggi non lo possiamo ancora dire. Sicuramente è un sistema che può aiutare, può servire, però purché sia utilizzato con questa finalità della cessazione e sotto un controllo medico in ambito sanitario e non lasciato la libera iniziativa e il libero utilizzo del singolo. Quali risultati si ottengono con i cerotti alla nicotina? I cerotti alla nicotina sono uno dei sistemi che noi prescriviamo per la cessazione del fumo che tende a sostituire quella parte di nicotina che viene inalato col fumo. Anche qui si possono ottenere buoni risultati, sempre se, come noi consigliamo, associati a un supporto psicologico. Il risultato dipende poi da persona a persona. In alcune persone può essere più efficace questo sistema, in altre persone è meglio ricorrere all'utilizzo di altri farmaci. Le tecniche di automassaggio della mano o dell'orecchio funzionano o sono solo un placebo? No, sono assolutamente tecniche non ufficiali, non riconosciute, su cui non c'è nessuna evidenza scientifica. Poi è vero che non può cessare di fumare anche da solo, quindi qualunque cosa permetta di arrivare alla cessazione ben venga, però non sono sicuramente metodi riconosciuti con una validità scientifica. L'ipnosi è efficace? Anche questa direste sul discorso di prima, non è dimostrato scientificamente. Poi, chiaro, in qualche caso può arrivare a smettere di fumare, ma come con tanti altri mezzi, dal libro ad altri sistemi. L'agopuntura può aiutare? No, assolutamente no. La cessazione del fumo, anche in questo caso, non c'è nessuna dimostrazione scientifica reale. L'agopuntura